ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco calmadol a cosa serve calmadol ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli cerotti altri è commercializzato in italia dall'azienda montefarmaco otc spa informazioni commerciali titolare montefarmaco otc spa concessionario montefarmaco otc spa categoria di appartenenza cerotti altri confezioni calmadol due cerotti monodose fascettati calmadol due fasce monodose fascettate indicazioni sollievo dal dolore in caso di muscoli tesi o affaticati modalità d'uso applicare sulla parte per otto ore descrizione e caratteristiche fascia indicata per collo spalla polso cerotto per ogni parte del corpo non contiene medicinali fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato